E' appena finito il Gran Premio di Spagna, quarto round del Mondiale di Formula 1 e ancora una volta celebriamo la vittoria di Lewis Hamilton al termine di una strategia azzeccata e di una gara per la verità non proprio indimenticabile, anzi più tendenzialmente all'orrenda. E' una gara che vale per le statistiche perché abbiamo aggiunto un milestone nuovo alla carriera di Lewis Hamilton, è una gara in sé che in realtà è vaida soltanto per la sensazione dei punti del campionato del mondo, visto che per la verità non è successo assolutamente niente dalla partenza in avanti con l'unico motivo di interesse vedere quello che poteva essere la strategia di Lewis Hamilton che si è rivelata azzeccata. Lewis Hamilton che vince per la novantottesima volta in carriera in Formula 1 ma che al sabato ha raggiunto un traguardo storico con le 100 ball position ma è ovviamente nessuno come il pilota inglese che è primo sia in questa classifica sia nella classifica delle vittorie che appunto va a quota 98. Questa novantettesima vittoria per essere sintetici si decide prevalentemente al momento in cui Hamilton decide di cambiare strategia, in teoria il plan era per tutti i piloti di andare su una sosta sola quindi partendo inizialmente con le gomme rosse e mettere le gomme gialle, alla fine Hamilton era sempre in scia a Verstappen non riuscendolo mai a superare cosa che invece Verstappen ha fatto dopo la partenza. I due momenti chiave appunto sono la partenza e la strategia di Hamilton, Verstappen sfrutta una buona partenza e supera Hamilton e sta davanti anche dopo il waltzer dei primi pit stop allora lì in quel caso la Mercedes decide di cambiare strategia, rimettere un nuovo set di gomme gialle a Lewis Hamilton che di fatto va a replicare una vittoria molto simile se non identica a quella che fu in Ungheria qualche anno fa. Dove appunto con una sosta in più sfruttando anche la freschezza delle nuove gomme e sfruttando anche il fatto che Verstappen le gomme le aveva esattamente finite effettivamente va a pagare questa strategia e Hamilton vince per la novantettesima volta e per la novantettesima volta suona God Save the Queen in una gara veramente orripilante che non ha veramente tanto da dire. E' un buon motivo dunque questa gara per fare una mia personale petizione e chiedere per quanto possa contare cioè zero alla FIA di togliere questo circuito dal calendario perché hanno ulteriormente poi cambiato il layout di Barcellona amplificando la curva 10 che era uno dei punti di sorpasso della vecchia versione. Senza quella l'unico punto di sorpasso rimaneva il rettilineo finale e manco quello perché dobbiamo aggiungere il fatto che il DRS era assolutamente ininfluente nella maggioranza dei casi e dunque abbiamo assistito a 66 giri veramente orrendi meno male che c'è stato Hamilton che ha dato un pochino di brio altrimenti la gara l'avrebbe vinta Verstappen che per il campionato per la verità sarebbe stato anche meglio perché il distacco adesso con questa vittoria di Hamilton è 94 punti per Hamilton e 80 per Verstappen quindi fanno 14 punti per il pilota andese di distacco che per la verità ha fatto il giro veloce della gara stavolta ufficiale confermato e dunque limita un po' i danni in un duello che appunto vede Hamilton vincitore al quarto round in una gara per la verità non indimenticabile appunto come dicevo prima è un buon motivo per sostenere che il Gran Premio di Barcellona per queste Formula 1 lascia molto il tempo che trova e non ha regalato assolutamente nessun spettacolo ancora una volta il podio lo completa Valtteri Bottas che di fatto è uno dei big 3 tra virgolette o meglio big 2 e mezzo perché ancora una volta Bottas è peso paga sia da Verstappen sia da Hamilton Bottas comunque fa il terzo podio in quattro gare va a 47 punti ed è di fatto a bagno maria tra i due big del circuito e gli altri che sono gli umani perché dietro c'è Lando Norris con la McLaren e via via tutti gli altri in quella lotta che è con la seconda Red Bull, le due Ferrari e le due McLaren la gara è stata veramente anonima in realtà sia per tutte le posizioni che contavano anche la zona punti zona punti che appunto viene completata da un ottimo Charles Leclerc che finisce quarto con la prima delle due Ferrari confermando il risultato delle prove quinta posizione per quanto riguarda la gara di Barcellona e dell'altra Red Bull Sergio Perez fa un'altra gara in top 5 molto bene il pilota messicano sesto è Daniel Ricciardo che per una volta batte Lando Norris e finisce appunto sesto con l'inglese ottavo settimo è Carlos Sainz con l'altra Ferrari ancora una volta un Carlos Sainz un po' di rimessa in questa gara ottavo posto appunto Lando Norris nono Esteban Ocon con la prima delle due Alpine grande gara ulteriormente di Ocon che ancora una volta batte Fernando Alonso e chiude la zona punti Pierre Gasly con la terza gara punti consecutiva ancora una volta decimo Antonio Giovinazzi per quanto riguarda i nostri portacolori il pilota italiano finisce quindicesimo in una gara anche per lui abbastanza anonima l'Alfa fa il campionato degli altri altri quindi se la gioca con la Williams e la Haas per la scuderia che di fatto fa meno schifo ma un po' in generale la gara ha fatto abbastanza schifo per tutti in realtà e appunto registriamo semplicemente che ha vinto Hamilton terza vittoria su quattro gare 14 punti di vantaggio e ancora una volta appunto per lui suona l'inno britannico paradossalmente la Formula 3 che ha corso sempre a Barcellona ha offerto molto di più di questa gara soporifera della Formula 1 ma della Formula 3 ne parleremo tra poco non prima di aver dato le assegnazioni dei premi dei driver del giorno delle delusioni del giorno il mio driver del giorno è Leclerc semplicemente perché con una macchina inferiore rispetto alle due Mercedes e a una Red Bull il quarto vostro è il risultato massimo ottenibile per il pilota monegasco che ha fatto un'impresa secondo me a confermare il risultato della qualificazione appunto quarto una gara molto solida del monegasco che appunto punta a far sì che la Ferrari sia la terza forza del campionato costruttori considerato che Red Bull e Mercedes sono inarrivabili c'è la lotta appunto con la McLaren che oggi in realtà ha fatto abbastanza più fatica della Ferrari la delusione del giorno comunque in tutto questo è sempre chi è finito sul podio ed è Valtteri Bottas per un semplice motivo come ho detto prima è il terzo big tra molte fila di virgolette anche se in realtà è più un onesto pilota appunto ho detto prima l'espressione big due e mezzo ma perché Bottas è sempre un po' a bagno maria anche oggi ha fatto la seconda guida ha dato l'ordine di scuderia a Hamilton per farlo passare nella grande rimonta contro Verstappen e per il resto è stato lì sempre terzo ma in discussione gara abbastanza anonima per quanto appunto sia il terzo podio in quattro gare anche per lui evidentemente questo rende idea di come questo campionato di Formula 1 sia molto indirizzato verso questi tre piloti che se va tutto bene monopolizzano il podio e gli altri prendono le briciole qui però Bottas ha preso paga sia da Hamilton sia da Verstappen e non è una cosa diciamo infrequente ultimamente per quello che comunque non è un pilota fermo perché ricordiamo che sì è vero ha vinto soltanto nove volte ma ha fatto ben 17 pole in qualificazione cosa che evidentemente non è da tutti però Bottas evidentemente è una delusione chiusa la parentesi che si può chiamare sulla Formula 1 passiamo alla Formula 3 che è uno dei due campionati propedeutici che appunto assiste il circus della Formula 1 in alternanza con la Formula 2 la Formula 3 ha aperto i battenti in Catalogna e il primo leader del campionato è il norvegese Dennis Hauger che va a vincere la gara della domenica mattina una gara molto importante che appunto sfrutta la qualificazione direttamente del venerdì che appunto assegna la griglia della domenica Hauger fa una gara di fatto flag to flag e arriva al traguardo per primo e per lui su una linea nazionale della Norvegia che è sì noi amiamo questo paese 34 punti per il pilota norvegese che ne ha due di vantaggio su Holly Coldwell sempre pilota inglese del team Prema quindi due compagni di squadra in testa al campionato Coldwell vince anche la gara 2 che è quella della domenica pomeriggio è una gara in realtà abbastanza strana perché Coldwell partiva a settimo e sfruttando tre incidenti in curva 1 tra cui quello di Hauger e anche il nostro purtroppo Matteo Nannini si ritrova primo sfruttando i ritiri altrui e va a vincere la gara sprint del sabato pomeriggio e per lui suona Godside Bequini il terzo vincitore di giornata che è anche il primo in ordine cronologico è Alexander Smolnyar pilota russo del team Arta la seconda stagione in Formula 3 e per lui suona lino della federazione russa per il primo leader della stagione gli altri piloti sul podio in gara 1 primo Smolnyar secondo il francese con licenza britannica Clement Novalac e terzo Caio Collec pilota brasiliano del team junior della Alpine al primo podio all'esordio assoluto attenzione al come dire junior team della Renault o Alpine che dir si voglia perché ha tanti piloti interessanti tra cui anche Victor Martens o Martins come dovrebbe essere pronunciato alla portoghese seconda posizione dietro Coldwell per l'altro junior team della Renault e terzo è Frederic Vesti pilota danese molto interessante che al secondo anno in questa stagione è passato al team Arta ed è entrato nel programma junior della Mercedes quindi un po' di importante per il danese mancano appunto all'appello piloti importanti appunto come Matteo Nannini il nostro italiano più competitivo che dunque però rimedia all'incidente avuto in gara 2 con il nostro ordinario terzo posto che lo issa al nono posto in classifica del campionato 16 punti per il pilota Romagnolo che appunto va a legittimare una gara 2 molto sfortunata dove meritava oggettivamente molto di più seconda posizione invece per Jack Doan il figlio di Mick junior team della Red Bull anche per lui così come Dennis Hauger fa seconda posizione anche lui si riscatta dopo un sabato non propriamente interessante chiudiamo all'apparenza della forma 3 con il secondo italiano in gara Lorenzo Corombo è un altro italiano, uno junior molto promettente che però in questa gara di Barcellona ha fatto purtroppo meno del potenziale e chiude le tre gare 23esimo, 22esimo e l'ultima di fatto non la corsa finisce doppiato 29esimo a un giro la Formula 3 tornerà in Francia a Le Castellet mentre la Formula 2 tornerà in un circuito che a sua volta è orrendo non come Barcellona ma peggio cioè Monte Carlo dove tornerà anche la Formula 1 a due settimane in una gara che obiettivamente avrà sulla carta poco da dire a meno di diluvi universali o 1000 safety car in ogni caso anche Monte Carlo è un circuito che onestamente a me non piace c'è un periodo un po' di magra diciamo così dopo tre gare interessanti fino a Portimao Spagna e Monte Carlo sono state verosimilmente due gare orrende e poi vedremo cosa ne prosegue del campionato intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo recent podcast il prossimo appuntamento con il canale sportivo sarà sabato perché a una settimana dall'avvio della Superbike arriverà il video di presentazione del campionato motoristico che io preferisco e poi domenica ci sarà il post gara di un altro campionato motoristico ma è la MotoGP che correrà invece in Francia alle mani il saluto da parte di Matteo Thorgard ci vediamo al prossimo video